In Piazzatola sabato è stato Elis Day, una serata dedicata alla giovane Elisa Riccobono. Ce ne parla nel servizio Valeria Ganadu. Piazzatola ha ospitato sabato l'Elis Day, la giornata dedicata ad Elisa, morta a soli 15 anni nel 2020 dopo un incidente in moto. Quest'anno la sua famiglia ha voluto ricordarla in pieno centro storico con una serata presentata da Narita Oggiano con musica, balli e allegria organizzata con la collaborazione dell'Associazione Il Giardino degli Angeli. Tanti giovani hanno affollato la piazza, sul palco diverse scuole di ballo, le stesse dove Elisa si era fatta conoscere per il suo talento di ballerina. Una serata particolare poiché in mezzo a loro agenti della pulizia locale ed educatori di strada hanno iniziato la campagna di sensibilizzazione on the road nelle piazze cittadine più frequentate dai giovani per sensibilizzarli ai pericoli derivanti dall'uso e abuso di sostanze stupefacenti e alcol specie se poi ci si mette alla guida.